La puntata qui da noi a ruota libera, cerchiamo di vedere la luce in fondo al tunnel e di iniziare questa puntata con uno dei sorrisi più belli e grintosi della musica italiana. Ad aprire questa puntata è con noi Neck! Filippo, dove sei? Ciao! Come va Filippo? Grazie a Dio tutto ok, in questo momento mi trovo nel mio piccolo studio, sono a Sassuolo, a casa con la mia famiglia, quindi sto vivendo bene la mia vita.